Ci sono aree del nostro territorio calabrese che vivono proprio di pesca e c'è un sacco di problemi, perché noi se parliamo di pesca e agricoltura questo è il nostro futuro e quindi dobbiamo cercare di stargli più vicino e venire incontro alle varie problematiche. La Regione Calabria ha avviato la realizzazione di interventi nel settore della pesca con le sottoscrizioni alla cittadella regionale a Catanzaro delle convenzioni dei primi bandi del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2018, che prevedono interventi a bordo dei pescherecci, il miglioramento delle infrastrutture preesistenti dei porti di pesca di Roccella Ionica, Catanzaro, Cetraro e Ciro Marina, interventi destinati agli impianti di acquacultura, la creazione o ammodernamento degli impianti produttivi di trasformazione dei prodotti ittici. Sono i fonti per la pesca 2014-2020, non è che abbiamo risolto in questo momento i problemi della pesca, che i problemi della pesca calabrese sono tanti, è un settore importante, iniziamo a dare qualche risposta. Quindi noi firmiamo questa convenzione stamattina, iniziamo nel vivo e quindi vogliamo aprire un tavolo con i pescatori calabresi e affrontare varie problematiche che ci sono sul tavolo. Rossella Galati per l'AC News 24. Rossella Galati per l'AC News 24.